Voi immaginate un imprenditore, un imprenditore che va, il negozio va male, il negozio va male, il negozio deve essere, lui, ci sono già due istanze di fallimento alla cancelleria fallimentare, lui è in dubbio, che facciamo? Fallire, già i parenti non gli danno più soldi, le banche hanno chiuso i rubinetti, perché hanno capito che non si legge più, sul piano economico, lui è un bivio, fallire o rivolgersi agli usurai? Ovviamente io consiglio sempre di fallire, se tu fallisci hai la possibilità di ricominciare da zero, se tu ti rivolgi agli usurai, perdi tutto, facciamo un esempio, mettiamo il caso in cui lui va dagli usurai e chiede 100.000 euro, nell'arco di 2-3 ore lui ha 100.000 euro, guardate che più è mafioso, meno ha bisogno di garanzia, il genere è l'usura che fanno gli impiegati, anche dei dipendenti di banca che fanno usura, e si fanno fare assegni in bianco, scritture private per la cessione di una casa, di un terreno, l'usuraio mafioso non ha bisogno di garanzia, perché la sua forza di intimidazione, il fatto che lui sa di rischiare la pelle, i soldi non li perderà. E allora si rivolge agli usurai, dopo un paio di mesi lui si rende conto che non riesce a pagare nemmeno gli interessi usurai, usurai. Quindi incominciano, l'usuraio incomincia a fargli pressione, l'usuraio è mafioso. Entra al negozio, gli prende un televisore, un frigorifero e se lo porta, lo fa strattonare, dopo un'agonia di un anno o due gli spara alla serranda, gli brucia la macchina, ma non gli brucia il negozio, perché quando si brucia il negozio non è usura, è un altro, perché il negozio è la garanzia del pagamento a debito. Quindi l'imprenditore gli spara alla serranda, il giorno dopo l'articolo sul giornale, colpi di pistola contro il negozio, eccetera, vanno a dare solidarietà, tutti, gli amici e i parenti, va anche un ondranghetista e gli dice buongiorno, come state? E purtroppo mi è successa questa cosa, ma mi dispiace, io mi ricordo di quando eravate il bambino, questo negozio ce l'aveva vostro nonno, ce l'aveva vostro padre, ora come sono permesso a fare questa cosa? Il commerciante si apre, magari dice ma io ho bisogno, io lo voglio vendere, non ce la faccio più andare avanti. E questo saggio gli dice guardate ma c'ho una nipote che è fidanzata con un bravo ragazzo, lo potremmo sistemare, vorremmo vedere sistemare, se ci mettiamo d'accordo lo potrei comprare, lo potremmo comprare magari. In sostanza gli fanno una finta compra-venta dal notaio. In realtà poi questi soldi li dovrà restituire e spesso il proprietario del negozio diventa dipendente dello stesso negozio. in il rapporto usurario. Ma prima di arrivare a questo dato, nel corso di questi due anni ci saranno telefonate anonime a casa, minacceranno la moglie, chiameranno scientificamente quando il merito è fuori, così risponde la moglie o i figli. E quindi terrorizzeranno tutti, perché la moglie e i figli possano odiare il padre, vedendolo come un fallito, vedendolo come un pugile suonato. Quindi lui non solo perderà il negozio, ma perderà anche l'amore e la stima della moglie e dei figli. Cambio di gestione. Il negozio diventerà luccicante, bello, c'è una bella commessa che batterà scontrini. E allora, come vi diceva Nicaso, da questo momento cosa fa l'imprenditore? Si rivolge ad una società che fa false fatturazioni. Quindi, se io ho comprato dalla fabbrica questo telefono, 100 euro, gli faccio un ricarico del 25% e tolta la luce, la tassa sulla spazzatura, lo stipendio della commessa, che formalmente guadagnerà 1.200 euro, di fatto dovrà restituire in contanti 400-500 euro al proprietario del negozio. Quindi, da questo 25% togliamo il 1.2, 1.2% che, abbiamo detto, la luce, la spazzatura del stipendio, resta al netto 23%. Quindi tutto ciò che io compro, con questo 23% di guadagno, nessuna misura di prevenzione, nessun accertamento della Guardia di Finanza me lo potrà togliere. Perché effettivamente ho venduto il telefono e ho guadagnato al netto 23 euro. Quindi io posso giustificare, se ho comprato qualcosa con questi 23 euro. Allora voi immaginate, anziché comprare 100 telefonini, io ho comprato, tra virgolette, con false fatturazioni, 1000 telefonini. Io avrò tante volte 23, 23, 23. Quindi quella cassa diventerà uno scontrinificio. E quindi io poi posso giustificare l'appartamento a Perugia per mio figlio, che è all'università, posso giustificare la barca, posso giustificare il sub da 80.000 euro. Ma, ragionando ancora in grande, voi immaginate un'area di 40-50 km quadrati, dove già ci sono quattro supermercati. A un certo punto l'Andrangheta decide di costruire il quinto supermercato. lo costruisce spesso, prestandosi i soldi da una finanziaria. E la finanziaria sarà sempre del nord, preferibilmente lombarda, che non ha bisogno di molte garanzie. Si costruisce questo supermercato e costa mediamente 4-5 milioni di euro. E i mafiosi, badate, che hanno sempre i conti in rosso. I loro conti, quelli intestati a loro. Appena questo supermercato viene costruito e va a regime, come vi dicevano in caso, lo stesso prodotto del primo, secondo, terzo e quarto supermercato, lo stesso prodotto lo venderà a un punto in meno. Quindi la massaia, non creandosi un problema etico, sapendo che questo supermercato è dell'Andrangheta, farà 30 km e andrà con la sua panda a riempire la macchina di spesa a fine settimana, perché lì per zona migliore. Il primo, il secondo, il terzo e il quarto supermercato incominceranno ad andare in crisi, perché le bocche da mangiare sono sempre quelle che sono nei 50 km quadrati, sempre 200.000 persone sono le che devono mangiare. E quindi il primo, il secondo, il terzo e il quarto incominceranno a licenziare persone e a chiudere le parti. Il quinto supermercato va a gonfio e vele. Ma la cosa che si può notare è che questi supermercati hanno sempre 25 casse, 20 casse, ma aperte sono sempre 2, 3, 4, non di più. Allora uno dice, ma guarda che scemi, ma è possibile che prima di costruire questo mercato non hanno fatto indagine di mercato per capire la popolazione, il consumo, il livello economico, per capire che tipologie di prodotti portare, se prodotti di marca o meno. Dopo 5-6 anni, da un'intercettazione ambientale, dalle dichiarazioni di uno o due collaboratori di giustizia, si emerge che quel supermercato è stato costruito con i soldi della cocaina. A quel punto si interviene, si fa un sequestro, una misura di prevenzione, e si sequestra e viene nominato un amministratore giudiziario. Nel momento in cui viene nominato un amministratore giudiziario il tubo catodico, i soldi che da quella stanza venivano portati nella cassa per emergere la luce del sole coperti dalla fatturazione, dallo scontrinificio, si taglia. Il cortone americano non ci sarà più. A quel punto il quinto supermercato dovrà reggersi sulle sue gambe. E allora la massaia che dice ma se la pasta ora mi costa come costa lì al supermercato sotto casa mia, io che le faccio fare 30 km, scendo sotto e mi compro la pasta quando non ne ho bisogno. Quindi il quinto supermercato incomincerà a fallire, ad andare in crisi, incomincerà una lenta agonia, perché il quinto supermercato è un'anomalia del mercato, perché già bastavano quei quattro supermercati. Dopo un'agonia di questo quinto supermercato, il supermercato chiude. Allora il popolo che dice? Avete visto? Quando c'era l'andrangheta lavoravano 100 padri di famiglia, arriva lo Stato e questi 100 padri di famiglia sono sulla strada. Perché il popolo non ricorda che sei anni prima il primo, il secondo, il terzo e il quarto avevano già licenziato. Perché il consumo è sempre quello. Le persone che si devono vestire sono sempre 200 mila, le persone che devono mangiare sempre 200 mila sono, non è che sono in più. Quindi la distribuzione veniva prima per quattro, in quote più o meno uguali, poi c'era quasi un monopolio del quinto supermercato, perché vendeva meno, andava a gonfie veli. E questa è la forma più rozza di riciclaggio.